Ciao a tutti, io come sempre sono Vlad Sparessoccose. Regolarmente e periodicamente sul web sbuccono articoli che raccontano una storia assai affascinante su come un inventore sardo, un certo Brocco, avrebbe inventato il revolver ben due anni prima di Samuel Colt. E nonostante avesse ricevuto un premio da re Carlo Alberto di Sardegna, non avrebbe brevettato questa sua invenzione e fu disinteressato a dare un seguito a tutto questo perché avrebbe dovuto lasciare la sua amata Gadoni, la sua cittadina sarda d'origine appunto. Questa storia è assai affascinante, ma c'è un grande ma. Volendo proprio fare un video riguardo a questa storia mi sono messo a ricercare e non ho trovato assolutamente nulla. Gli articoli che negli anni menzionano questa storia sembrano ripetere sempre la stessa storia, sembrano essere attinti o uno dall'altro o dalla stessa fonte. Fonte che forse sono stato in grado a stabilire e mi piacerebbe metterci mano sopra, ma andiamo in ordine. Intanzitutto per capire quello che non abbiamo della rivoltella di Brocco, ovvero foto e caratteristiche tecniche, dobbiamo in realtà analizzare il presupposto, ovvero che avrebbe inventato una rivoltella nel 1833 due anni prima del brevetto di Samuel Colt. Ora, io non dubito che questa persona abbia inventato un'arma che abbia qualche meccanismo di rotazione. Solo che le armi con camere rotanti in un cilindro esistono da tantissimo tempo ed esistevano ben prima di Colt. Questa è la foto di un moschetto a miccia tedesco del 1580, il che lo piazza circa 250 anni prima dell'invenzione di Colt. Questa è una Pakol Gun del XVIII secolo, anche se chiaramente non un'arma portatile, ma intesa come arma navale, anch'essa presenta una serie di camere su un asse che può ruotare per poter sparare più colpi in rapida sequenza. Insomma, il mio punto è che il concetto dell'usare un cilindro, un tamburo con più camere di scoppio per sparare da una sola canna più colpi in rapida sequenza non è un'idea che Colt ha inventato, non è un'idea nuova. Anzi, lo stesso Colt usò altre armi fatte in precedenza come ispirazione. È importantissimo, per esempio, in questo contesto, nella storia della rivoltella, ricordare il lavoro fatto da Elisha Collier. Inventore di Boston, lavorò tantissimi diversi modelli di pistola a rotazione, potremmo chiamarle. Pistole ed armi che sono molto ben documentate, presente in collezioni e musei. Tra l'altro, proprio in questi giorni, sta uscendo, perché sta venendo finanziato ancora su Kickstarter, un libro a riguardo proprio dei revolver di Collier. È infatti nel lavoro di Collier che possiamo andare a individuare quello che in un certo senso è l'ergonomia di quello che diventerà il revolver. Molte delle sue armi erano innanzitutto a pietra focaglia, pensate, nonostante presentassero un sistema rotante. Nei primi modelli, il cilindro doveva essere ruotato manualmente, proprio dalla mano. I modelli più avanzati, invece, presentavano una specie di pulsante con una molla che ogni tanto doveva essere comunque tesa. E noi sappiamo per certo che Samuel Colt ebbe a che fare con il revolver di Collier. Samuel Colt brevetterà la sua invenzione nel 1835 in Gran Bretagna e nel 1836 negli Stati Uniti. Brevetta però cose abbastanza specifiche. Samuel Colt, a parte delle cose costruttive della sua arma, specificamente va a brevettare il fatto che il tamburo, il cilindro dell'arma, ruoti quando si arma il cane. In poche parole, Colt brevetta quella che noi conosciamo come l'azione singola. perché quello che succede durante l'azione singola dei revolver, cosa che è ovvia a noi ma non ci pensiamo, è che quando armiamo il cane il tamburo ruota. Questa è l'invenzione di Colt e la sua invenzione per la prima volta ha reso pratico il revolver perché è una soluzione meccanica estremamente semplice e molto elegante. Detto questo, la questione della rivoltella di Brocu e di che cosa effettivamente ha fatto Brocu è stabilire come funzionasse quest'arma. Il problema? Non c'è un singolo disegno nel foto sul web di quest'arma. I pochi siti che riportano questi articoli e magari ci mettono sotto la foto del revolver di Brocu, uno fa vedere chiaramente quella che è una Colt Dragoon e un altro sito fa vedere un'arma che palesemente non è una rivoltella. Sappiamo, almeno su questo le fonti, a parte una non sembrano contraddirsi, che si tratta di una rivoltella da quattro colpi. La grande domanda è che tipo di rivoltella è? Perché se ha fatto, per esempio, qualcosa dove il cilindro va ruotato manualmente, non ha fatto una cosa diversa da quello che già in precedenza aveva fatto, appunto, Collier. E quindi si tratta di stabilire se nel 1833 Brocu avrebbe inventato l'invenzione di Colt, ovvero collegare la rotazione del tamburo al meccanismo per armare il cane. E di questo non ne abbiamo la più pallida idea, onestamente. Non sono stato di reperire una singola immagine attendibile. Quella che considero in questo contesto la migliore fonte è un sito chiamato Visit Gadoni, chiaramente un sito dedicato al turismo in questa cittadina. Anche in questo articolo si parla di questa pistola, ma si dà qualche dettaglio in più. Innanzitutto le fonti, perché l'articolo va a citare un libro, che è la storia e cultura della scuola media di Gadoni. Non sono stato in grado di stabilire quindi neanche come è fatto questo libro. Se qualcuno di voi lo possiede vorrei vederlo, ma pare che il libro stesso citi un'altra fonte, citi il parroco del paese che ha comunque compilato storie delle persone dei posti. L'ha fatto però a inizio novecento, quindi parliamo di 70 anni dopo l'invenzione di Brocu. L'altro indizio importantissimo in questo articolo è che questa pistola a quattro colpi sarebbe nella collezione del dottor Luigi Caocci di Arizzo. Una ricerca su Google su questa persona non ha portato assolutamente a niente. Non sappiamo dov'è, se è viva, se non è viva, che cosa ha oltre a quest'arma nella sua collezione. Ho scritto al sito Visit Gadoni cercando più informazioni, vediamo a cosa mi rispondono. Ho scritto anche a due personaggi americani, sicuramente a voi noti, Ian McCollum. Ho scritto anche a Ofayas di Sien Araslan che sta facendo un monumentale lavoro di catalogazione di tutte le invenzioni e brevetti che riguardano i revolver, i brevetti che avete appunto visto, li ho presi dal suo sito. Ma mi serve anche il vostro aiuto, in particolare se siete delle zone e avete accesso al libro che ho citato, o meglio ancora, siete proprio lì e magari sapete a chi chiedere. Magari conoscete questo dottor Caocci di Arizzo, mi potete aiutare nella mia ricerca perché sono veramente curioso di raggiungere il cuore di questo mistero, di almeno avere una foto di questa cosa e capire cosa Brocco nel 1833, questo non lo dubbio che abbia inventato qualcosa, ma voglio sapere cosa. E magari sapendo esattamente cosa, avendo foto, si può scrivere magari un bell'articolo, fare un video, e comunque fare conoscere al mondo questa sua invenzione. Per adesso di sicuro il brevetto di Colt rimane la prima rivoltella pratica, ma chissà, magari ci piace davvero pensare, magari è davvero così, è una bella storia, che non è nata negli Stati Uniti ma nell'entroterra sardo. Scrivetemi su Instagram, vi lascio in descrizione, scrivetemi su una mail se sapete qualunque cosa o avete accesso a qualunque fonte. Magari insieme, magari proprio con la potenza mediatica del web, riusciremo finalmente a fare luce su questo mistero. Come sempre, ci vediamo alla prossima.